Siamo contentissimi di questa opera pubblica che è un bene pubblico di questa firma ciclabile perché per quello che io mi ricordo è almeno dal 1993 che sento parlare e si chiede che venga realizzata quest'opera con tutte le difficoltà che ci sono state. Quindi siamo contentissimi che questa amministrazione sia riuscita a portarla a termine e che abbia attenzione di valorizzarla ulteriormente non soltanto con degli alberi ma anche facendone il primo tratto di quella che si chiama in gergo tecnico oltro strada per le api, cioè bordandola di cespugli che fiuriscono durante il periodo di vita e di attività dell'anno delle api. Ci saranno dei cespugli di piante aromatiche probabilmente perché devono garantire la possibilità di una manutenzione semplice di non crescere troppo per non invadere la pista ma anche questo è un altro bellissimo segnale. Grazie a tutti!